Partiti! Dopo i primi metri di corsa, il Panzer allo steccato con all'argo Maddalina, inti Sir Fergus, De Ankhno, Sole Marino e segue in coda Marraill. Viaggiano apparegliati il Panzer e Maddalina sulla coppia Sir Fergus e De Ankhno, segue in coda la coppia Marraill allo steccato con all'argo Sir Fergus. Si procede per Pariglia quando in curva è in vantaggio il Panzer sotto il pungolo di Maddalina, segue Ankhno con all'interno Sir Fergus, poi la coppia Sole Marino e Marraill. Si entra in retta d'arrivo con il Panzer allo steccato che cerca di sveltire sotto il pungolo di Maddalina per l'interno Sir Fergus mentre è già sotto frusta il numero 6 De Ankhno che è proprio gridire in terza corsia, è proprio De Ankhno che rompe gli indugi e passa al comando seguito da Marraill mentre all'argo stenta Sole Marino. Siamo nell'ultimo tratto con De Ankhno al comando che cerca di difendersi dall'allungo di Marraill poi Maddalina e Sole Marino, De Ankhno allunga nell'ultimo tratto su Marraill che ci prova ma rimane un po' lì, poi Maddalina e Sole Marino. Stacca facile De Ankhno su Marraill, terzo finisce Maddalina e quarto Sole Marino. Andiamo nel replay stretto con la vittoria di forza del numero 6 De Ankhno che ha rotto gli indugi a 300 dal palo e ha poi mantenuto vantaggio fino in fondo, ha respinto gli attacchi del favorito il numero 3 Marraill che si deve accontentare del secondo posto, terza la rientrante Maddalina per una trio che dice 6-3-2.